Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura il duplice omicidio che si è consumato questa notte in via Benedetto Varchi a perdere la vita una madre e una figlia. Ha impugnato un coltello da cucina e si è scagliato contro la moglie e la suocera uccidendole entrambe in manette un 38enne di origini magrebine, Jawad Isham. Attorno all'una la brutale aggressione che si è consumata di fronte ai due figli della coppia, un ragazzo di 16 anni e una bambina di due. Nessuno pensava che arrivassera tanto, dispiace e la preoccupazione è per questi fiori, quello è l'importante, che qualcuno si prenda cura. La suocera Brunetta Ridolfi di 76 anni, residente a case nuove di Ceciliano, è morta subito a causa delle ferite inferte, mentre la moglie Sara Ruschi, 35enne, è deceduta in ospedale dove è arrivata in condizioni disperate. Io sono rimasta di stucco veramente stamattina quando ho saputo insomma quello che era successo. Io direi persone tranquille ecco. Nessuno nella zona avrebbe mai potuto immaginare un epilogo così drammatico? Assolutamente no. A chiedere aiuto nel cuore della notte è stato il figlio di 16 anni. L'uomo dopo le coltellate è fuggito, è stato rintracciato dagli agenti della polizia, intervenuti sul posto mentre stava cercando riparo in questo piazzale, a pochi passi dall'appartamento teatro del delitto. L'uomo alle forze dell'ordine che lo hanno fermato avrebbe detto le ho ammazzate tutte e due. All'origine del duplice omicidio forse una lita degenerata in tragedia oppure un raptus di follia. Sono rimasto male perché non da ancora nel 2023 succedere queste cose, è impressionante. Cioè le cose ne parli, se ne discute. Ammazzare una persona è una vita di una persona. Le indagini sono portate avanti dalla squadra mobile della Questura di Arezzo e coordinate dal PM Marco Dioni. All'hotel dove lavorava Sara, la giovane mamma, oggi una giornata di rabbia e sgomento. Ieri sera era che lavorare? Tranquilla, niente di che. Anzi, gli ho detto, dico com'è la banda? Eh, dice sempre uguale. E basta. Che intende? C'erano dei liti? Sì, vecchi liti. Sara Ruschi era appena tornata dal turno serale all'hotel di Castiglion Fiorentino, dove da alcuni anni lavorava come aiuto cuoca. Aveva fatto ritorno all'appartamento in via Benedetto Varchi, dove è stata uccisa assieme alla mamma, Brunetta Ridolfi. Ad accoltellarle a morte di fronte i figli della coppia, un ragazzo di 16 anni ed una bambina di due, il marito della giovane, Jawad Di Sham, arrestato poco dopo. Io sono rimasto che abbia fatto una cosa del genere, veramente. Perché te l'ho detto, l'ho fatto venire a lavorare anche qui da noi. Il clima in casa pare fosse teso da tempo, come raccontano i colleghi della donna. Sara voleva allontanare il marito da casa. Perché? Semplicemente. Perché non era più lui. Non era più lui. Era diventato violento, era frustrato. Qualche volta, purtroppo, qualche manata gliel'ha data. Non è che l'hai visto. L'ultima volta il suo figliolo gli disse, babbo vai via. Nell'hotel dove lavorava Sara, oggi si respira dolore ed incredulità. È una persona che ti manca, nel senso, poi, è stata lì. C'è l'affetto, non è che... Qui è una famiglia, siamo tutti di casa. Il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, ha annunciato che sarà indetto il lutto cittadino nel giorno dei funerali delle due donne. Sentiamo adesso le parole del vice sindaco di Arezzo e assessore alla famiglia, Lucia Tanti. È una notizia terribile. I fatti stanno, proprio in queste ore, definiti. Si stanno determinando con più chiarezza. Quello che è certo è che un uomo ha coltellato moglie e suocera alla presenza dei due figli, di cui uno più grande, che ha chiamato i soccorsi. È una notizia che è incommentabile. La città di Arezzo garantirà sostegno a questi figli, che a questo punto sono di tutta la comunità, sono nostri. E' anche però un percorso di giustizia, perché da quello che si comprende, giustizia vera, giustizia forte, giustizia che non richiede, non richiama scorciatoie, perché questo è veramente un femminicidio a doppia marcia, verso una giovane donna e verso la sua mamma. Ancora un furto in un asilo a Retino. Durante le feste di Pasco, infatti, i ladri si sono introdotti in quello aziendale di Via Padre Caprara. Entrati dalla finestra, i malviventi hanno cercato di prendere un monitor del PC e poi hanno rovissato negli uffici. Non trovando nulla di interessante, si sono dati alla fuga con la mascotta della Nido, l'Orso Bruno, donato per un progetto di musica. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri, ma è molta la rabbia delle famiglie e degli educatori. Le richieste in merito alla sicurezza avanzate lo scorso anno non sono state accolte dal Comune. Avevamo chiesto semplicemente di mettere un catenaccio al cancello, una luce notturna, una telecamera, un allarme. Rinnoveremo adesso queste richieste nella speranza che il Comune ci ascolti. E c'è stato un altro caso di virus dengue ad Arezzo il secondo ed inizio anno ed è già scattata la disinfestazione nella zona dell'ospedale dove la persona era ricoverata, un 35enne che era tornato da un viaggio in Sri Lanka. Disinfestazione anche nella Comune di San Giovanni Valdarno nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 aprile. In caso di pioggia sarà rinviata. L'uomo infatti risedeva in questo Comune. Vediamo il servizio. Secondo caso del 2023 ad Arezzo di virus dengue contratto all'estero da un residente in provincia di Arezzo e una nuova ordinanza del sindaco Alessandro Ghinelli con la quale viene disposta la disinfestazione della zona circostante l'ospedale San Donato di Arezzo dove la persona è ricoverata. L'intervento sarà effettuato nella notte tra il 13 e il 14 aprile in caso di pioggia. Nella notte successiva, come di consueto, il dispositivo prevede che nelle aree pubbliche, caditoie, stradali e pozzetti, aree private, aree verdi di pertinenza delle abitazioni, nell'arco di 200 metri dalla struttura sanitaria, gli operatori procedano alla disinfestazione con insetticidi tramite interventi mirati. Secondo l'ordinanza, si ricorda a tutti che ci sia l'effettiva disponibilità delle aree aperte o delle abitazioni per permettere l'accesso degli addetti alla disinfestazione per effettuare i trattamenti in maniera corretta. È in programma per il prossimo sabato alle 10 e 30 la commemorazione del 79esimo anniversario dell'ecidio di Vallucciole con la messa in suffragio delle vittime celebrata da Donisio Cecchini. Sono 109 le persone che hanno perso la vita in questa strage, 22 ed equale di età compresa tra i 3 mesi e i 17 anni. L'ecidio si consumò il 13 aprile del 44. La giornata proseguirà poi nel pomeriggio con la camminata della memoria da Molin di Bucchio a Vallucciole. E adesso voltiamo pagina. Il progetto delle multiutiliti Toscana è al centro dell'incontro che si è svolto questa mattina a Palazzo Cavallo. Il sindaco Ghinelli assieme all'assessore Merelli ha ricevuto il sindaco di Firenze Nardella, quello di Prato Biffoni, il presidente e l'amministratore delegato di Alia. Nel corso della riunione è stato così illustrato lo stato di avanzamento del progetto Multitili di Toscana che prevede l'integrazione dei servizi di fiuti, acqua e gas al fine di valutare un possibile coinvolgimento anche del comune aretino. E Francesco Macri, invece, l'ex presidente di Estra, è diventato consigliere nel CDA di Leonardo, un'azienda italiana che si occupa dei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza. La nomina di Macri è arrivata da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze che è titolare del 30,2% del capitale sociale del gruppo. Cambiamo adesso argomento. Il comune di Arezzo ha prorogato la durata della fideiussione a garanzia del capitale residuo del mutuo assunto dalla società che gestisce in concessione nell'ambito del project financing l'impianto sportivo polifunzionale di Viale Gramsci. Si tratta appunto della piscina comunale. Il termine viene portato al 30 aprile 2037 senza che questo comporti maggiori oneri per lente. Resta invariata invece la durata quarantennale della concessione. Una decisione presa in consiglio comunale che ha approvato la delibera proposta dall'assessore Casi con 16 voti favorevoli, 9 assenuti e un contrario. La scadenza dell'ammortamento era stata richiesta per affrontare la situazione di sofferenza generata prima dal blocco delle attività durante la pandemia e poi dai rincari delle utenze luce e gas. E all'Arezzo Fiere Congress invece dal 13 al 16 maggio torna Ora Rezzo 2023 la manifestazione targata IEG dedicata alla manifattura orafagentiera e gioielliera. Come ogni anno torna anche il concorso premier quest'anno giunto alla sua 32esima edizione. Il concorso valuterà progetti e realizzazioni di gioielli di qualsiasi tipologia, stile, design, lavorazione e dimensione senza porre limiti alla creatività e all'isperazione di ogni azienda o partecipante. L'unico requisito richiesto è la luce che il gioiello deve saper esprimere. Questo è infatti il tema del concorso 2023. Le candidature sono aperte fino al prossimo 21 aprile. All'auditorium Pieraccini dell'ospedale San Donato di Arezzo invece un convegno sul welfare per le persone con gravi disabilità intellettive. Una giornata di confronto studio e formazione sui sistemi di welfare per le persone con gravi disabilità intellettive. Questo il convegno dal titolo Noe, No One Excluded, promosso dall'Istituto Madre della Divina Provvidenza dei Padri Passionisti di Agazzi. Volevamo rimettere un po' in discussione la nostra operatività, rimettere anche in movimento le nostre energie alla luce di quello che sta succedendo nel panorama anche legislativo nazionale. Quindi ci sono tanti aspetti che riguardano le risposte per il dopo di noi, ma ci siamo resi conto che sostanzialmente riguardano, coinvolgono una fetta di popolazione con disabilità un po' più, chiamiamola leggera se si può dire disabilità leggera. La nostra esperienza dell'Istituto invece di avere un rapporto con persone gravi, gravissime, e quindi individuare anche per loro modalità di inclusione, di rispetto dei diritti, di qualità di vita, ma con una tutela assistenziale, sanitaria alta, ci ha fatto mettere appunto in movimento e ci ha portato a chiedere l'aiuto di altre esperienze nazionali e internazionali che già hanno percorso questa strada. A confronto esperienze di relatori dall'Italia e dall'estero per approfondire le più recenti evoluzioni nei modelli di intervento orientati ai diritti e bisogni di persone in condizioni di complessità fisica e psicopatologica, presente anche la Lega del Filodoro. Noi abbiamo sempre considerato la persona che può, l'importante è che noi scopriamo, noi andiamo incontro a loro, facciamo l'accoglienza e ci rimbocchiamo le maniche perché diciamo sempre che i problemi non sono loro, ma siamo noi che casomai non abbiamo trovato un modo per educare, un modo per avvicinarsi, un modo per comunicare. Cambiamo decisamente argomento adesso e andiamo a conoscere Mavericchi, la toro più bella d'Italia. La razza chianina è contraddistinta dal gigantismo somatico, quindi Maveric lo vedete bene, molto alto, molto lungo, un'eleganza eccezionale nel portamento e nella fisionomia che ha e poi una cosa che è piaciuta moltissimo sono il correre del mantello, la testa e soprattutto le appiombi, cioè come cammina e come porta le gambe. È toscano, anzi per l'esattezza a retino, il toro chianino campione d'Italia. Si tratta di Maveric, 32 mesi e 1142 kg di peso, che si è confermato campione italiano per la seconda volta. Dopo tanto impegno siamo arrivati a portare tre animali che sono Nirvana, Milù e Maveric alla mostra e abbiamo conseguito bei risultati con le manze, siamo felicissimi e uno splendido risultato con Maveric perché Maveric si è aggiudicato il titolo di campione della categoria Torelli 24-36 mesi e poi è stato proclamato campione assoluto maschi senior della mostra e quindi è una soddisfazione immensa per noi. Maveric ha conquistato il primo premio di categoria nell'ambito della 36esima mostra nazionale Bovini di razza chianina che si è svolta a Bastia Umbra nel Perugino. È una grandissima soddisfazione per Cia Arezzo avere aziende come questa che portano lustro nel territorio. Quello che traspare è non solo la grandissima competenza che un allevatore deve avere nel settore ma anche la grandissima passione e non è soltanto allevare ma è stare insieme agli animali, lavorarci insieme per addestrarli, domarli, calmarli e instaurarci anche un rapporto incredibile. Il primo maggio torna il tradizionale appuntamento con il raduno nazionale Vesparezzo giunto quest'anno alla sua ventiduesima edizione che riunirà centinaia di Vespisti per dare vita ad una colorata carovana animata dalla volontà di vivere una giornata all'insegna dell'aggregazione, della condivisione e della scoperta del territorio. Le Vespe da quest'anno da Arezzo raggiungeranno Cortona. Ed apriamo adesso la pagina dello sport. Sale l'attesa per la partita di domenica contro la Pianese e oltre 2.300 italiani che sono stati già staccati. E in vista dello scontro la società sportiva Arezzo in collaborazione con Orgoglia Maranto i gruppi della Curva Sud, Lauro Minghelli, hanno deciso di chiamare a raccolta tutti i tifosi a Maranto per colorare lo stadio e spingere la squadra verso i tre punti. Da domani dunque saranno in vendita le bandiere realizzate proprio in occasione di questa partita. L'Arezzo calcio femminile invece fa sapere che nei giorni scorsi Mariana D'Alessandro ha riportato un trauma contusivo al ginocchio sinistro. Gli esami clinici e strumentali eseguiti nei giorni scorsi hanno evidenziato la lesione di terzo grado del crociato anteriore, la lesione di primo o secondo grado al delegamento collaterale e lo slaminamento del menisco mediale. D'Alessandro sarà quindi sottoposta ad un intervento chirurgico nei prossimi giorni. Passiamo adesso alla basket, un risultato storico per il settore giovanile della scuola basketarezzo dopo la pubblicazione dei convocati nelle selezioni 2010 maschile e femminile che parteciperanno al trofeo Carloni in programma a San Vincenzo il 24 e il 25 aprile. I convocati della SBA sono Lapo Allegretti, Filippo Bettini, Niccolo Caneschi, David Contu, Anna Di Palma, Leonardo Risaliti, un giocatore del basket poppy che sta svolgendo in Amaranto il campionato Under-13. I ragazzi sono stati divisi nelle otto squadre maschili costituite mentre Anna Di Palma farà parte della squadra denominata Zebras, una delle quattro femminili partecipanti. Questa per questa sera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci. Grazie a tutti.